Questa sera presenteremo un menù ecosostenibile, si parla tanto di ecosostenibilità, quindi di tutto quello che è il chilometro zero, di tutto quello che fa parte del mondo del food. Noi presentiamo questo menù dove presentiamo una serie di piatti totalmente ecosostenibili a impatto zero. L'idea nasce da dove? L'idea nasce dall'incontro con una società che si occupa di questa, che è la Cloros, con il quale abbiamo studiato, proprio a livello scientifico, qual è l'impatto ambientale che abbiamo nel momento in cui andiamo a produrre il nostro piatto, cercando di seguire tutta la filiera dei piatti, dall'inizio, da quando iniziamo a produrre la materia prima, fino a che il piatto arriva in tavola. Che cosa vuol dire? Nelle grandi aziende, per esempio, attraverso il protocollo di Chioto, lo devono fare e lo fanno obbligatoriamente, sono obbligati a farlo. Noi non siamo obbligati, però ci piace pensare che attraverso una piccola nostra azione possiamo anche noi contribuire a far qualcosa sull'impatto ambientale. E lo facciamo non attraverso il rimboscamento di alcune zone della terra come fanno altre aziende, altre cose, lo facciamo attraverso l'adesione a questo progetto in Monzambico, che da un certo punto di vista, approvato dall'Unicef, è anche socialmente utile. Questo progetto è praticamente la produzione, la distribuzione di una piccola stufa in ghisa che abbatte del 50% le emissioni di CO2 che attualmente loro producono. E quindi, attraverso l'adesione a questo progetto, è chiaro che noi, avendo in carta un menù così, nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa, noi e i nostri clienti. Grazie per la visione!